Quando una giovane scimmietta che sogna di esplorare il mondo... Pasparto! In giro per il mondo? Mamma! Non credo proprio! Incontra uno spericolato ranocchio... È ora di esibirsi! Un'avventura sta per iniziare! Sono felice di scommettere... È disgustoso! ...che posso fare il giro del mondo in 80 giorni! Sarà una missione... Porta a casa il mio bambino! A dir poco esplosiva! No! Tocco di mamma! Sei pronto? Parti con Phileas e Paspartout... Ora del selfie! Mettiti in posa e sorridi! Per un viaggio straordinario... Batteremo quel record! Insieme! Con la voce della Sabri! Io sono Auda! Voi chi siete? Siamo qui per salvarti! Ottimo lavoro, squadra! Seguitemi! Le rane non volano! Le rane che costruiscono aerei, sì! Doveva essere il momento più bello della mia vita! Ehi, non ho fatto niente di male! Fermo, Ranocchio! Ti dichiaro in arresto! Hai mangiato la mappa? Che razza di esploratore sei se mangi la mappa? Non è poi così male! Siamo una bella squadra! Il giro del mondo in 80 giorni! Sabbia mobili, quindi niente panico! Prossimamente solo al cinema! Radio Italia, radio ufficiale!